Allo Stadio Municipal di Braga, Braga e Tolentina è andata, 16 anni di UEFA Conference League e partiamo molto importanti, lasciate un like, iscrivetevi, mi raccomando, stadio meraviglioso secondo me, un grande corso di Braga, ce lo speriamo bene, ho tanta paura, venuti in titolare preghiamo, mi raccomando, come ho detto prima, iscrivetevi, lasciate un like, ci troviamo tanti corso di Braga, forza viola ragazzi! No! No! La fiore tiramo, la fiore tiramo, e la sosteniamo, non la fiore tiramo, belli cazzo. Dai! No! No! Dai! Grazie, peccato! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Tira! Oh! Oh! No! Oh non mio! No! No, no! No, ma qua! Oh! 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 no no bravo madonna no 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 mamma mia e ale 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 aquele no finito il primo tempo, diamo Sì 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 Alla No No Ancora lui 2-0 Diamo Diamo Sì 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 Diamo Diamo Meritato Diamo Diamo Questa flettina cazzo Diamo 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 partida